Ingredienti Dosi per 4 persone 300 g di penne rigate 8 cucchiai di salsa di pomodoro 8 cucchiai di panna liquida 200 g di prosciutto cotto 4 cucchiai di parmigiano 4 cucchiai di pecorino 50 g di burro Preparazione Mettere in un pegamino la salsa di pomodoro e la panna e farle bollire. Nel frattempo cuocere la pasta. Scolare la pasta. Condirla con il burro e con la salsa preparata. Aggiungere il formaggio e il prosciutto tagliato a listarelle e servire. Il piatto è pronto. Buon appetito!